Due pensionamenti e due trasferimenti l'anno inizia con notizie poco confortanti per quanto riguarda i pediatri, a Como famiglie alle prese con nuove scelte e con la preoccupazione di perdere il proprio riferimento per quanto riguarda la salute dei figli e con i timori che anche per queste figure professionali possano subentrare le ben note difficoltà che già riguardano i medici di medicina generale che a loro volta sono pochi e ormai con un elevato numero di pazienti ciascuno. Per quanto riguarda i pediatri, un pensionamento si è registrato proprio con l'inizio del 2024, un altro arriverà alla fine di febbraio. In più sarebbero in corso d'opera due richieste di trasferimento in direzione di Gallarate, con quattro professionisti meno è facile ipotizzare gli scenari e molti i genitori comaschi sono già nel caos, chi sta già correndo ai ripari, chi chiede informazioni, chi esprime dubbi. Le prime risposte arrivano dall'ASST lariana, dopo il primo pensionamento possiamo dire che è già pronto ad arrivare un sostituto. Si tratta di un medico che arriva da un altro ambito territoriale, di fatto un altro comune della provincia. Poi abbiamo aperto le procedure concorsuali, fa sapere Maria Cristina della Rosa, direttore delle cure primarie dell'azienda sociosanitaria territoriale lariana, che segue quindi da quest'anno i pediatri e medici di medicina generale. Sono moderatamente ottimista di trovare i sostituti, aggiunge, voglio rassicurare le famiglie dicendo loro che nessuno resterà senza pediatra. L'invito è di aspettare le comunicazioni ufficiali perché verrà previsto inizialmente un sostituto che potrà essere temporaneo o già il titolare definitivo e a quel punto si potrà decidere se essere assistiti da quel professionista oppure valutare un cambiamento. Attualmente sono meno di una decina i camici bianchi che si occupano dei bambini a Como Città. A questi, come detto, bisognerà sottrarre un pensionamento e i possibili due trasferimenti. Grazie a tutti.